Si chiama Poker Storie ed è il mio nuovo libro di poker edito da Giraldi, editore. Abbiamo scelto di presentarlo in occasione della 22esima edizione dell'Italian Poker Open qui al Casino di Campione d'Italia. Credo che sia una piccola chicca per rivivere dieci anni nel fantastico mondo del Texas Hold'em. In diretta sabato 29 ottobre alle ore 17 sulla pagina Facebook Poker Live Casino Campione e sulla pagina Facebook del sottoscritto Jack Panola. Poker Storie vi farà rivivere dieci anni nel mondo del poker. Ringraziamento a Cesare Antonini per l'intervista che mi farà e condurrà a tutti gli effetti la conferenza stampa ad Andrea Betti al Casino di Campione per la splendida accoglienza per questa cornice impagabile che è l'Ipo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.